La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha confiscato il patrimonio di 7 milioni e mezzo di euro riconducibili a Nicola Rocco Aquino, originario di Marina di Gioiosa e Onica, perché ritenuta appartenente alla cosca d'Indrangheta della famiglia Aquino, operante sempre a Marina di Gioiosa. Il provvedimento si basa sulle risultanze delle indagini nell'ambito dell'operazione crimine condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, conclusa nel 2010, che coinvolse ben 119 persone, tra cui l'Aquino, tutte ritenute in trane alla cosca di Marina di Gioiosa e Onica degli Aquino. Il provvedimento di restrizione nei suoi confronti inizialmente non fu emesso perché si rese irreperibile fino alla revoca della misura disposta nel corso del giudizio di appello. In relazione alle attività investigative veniva delegata dalla DDA e dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Reggio Calabria e dallo SCICO, sempre dalla Guardia di Finanza, un'apposita indagine a carattere patrimoniale, volta all'individuazione e ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione del patrimonio riconducibile a Nicola Rocco Aquino, all'esito del quale ne disponeva nel 2018 con plurini i provvedimenti il sequestro del patrimonio a questi riconducibili. Alla luce di queste risultanze, su richiesta della stessa DDA, la sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto con l'odierno provvedimento la confisca di prevenzione del patrimonio riconducibile all'Aquino, costituito dell'intero patrimonio aziendale di diverse imprese, quote societarie, immobili e rapporti finanziari.